Questa è Milano, la città dell'aperitivo. E questo sei tu a un aperitivo. Ma Milano è anche la città degli impegni. Infatti questo sei tu, ma in ufficio. E questo è il motivo per cui non sei all'aperitivo. Divertiti! E questo sei tu a cena con lei. E non solo con lei. Bon appetit! Questo sei ancora tu, mentre capisci che farai tardi all'aperitivo. E questo sei tu, mentre fai quello che i milanesi fanno per essere milanesi. E se ti dicessi che anche tra tutti questi impegni tu puoi ancora fare l'aperitivo? Heineken Mini presenta AperiCycle. Il mini aperitivo che puoi fare mentre stai andando a fare altro. E questa è un'ottima notizia. E questa è un'ottima notizia.